Buon viaggio da Monversi in Toscana, ben trovati da Mauro Ciutini. Un veicolo segnalato in avaria sulla A1, il tratto è quello tra Val di Chiana e Monte San Savino, in direzione di Firenze. E' ancora chiuso un tratto al valico del Cerreto, la statale 63 tra l'incrocio Pallerone e l'incrocio Rometta, traffico deviato sulla strada comunale. Obbligo di catene montate o pneumatici invernali sulla statale 12 della Betone del Brennero, c'è neve tra Cutigliano e Dogana Nuova. C'è una riduzione di carreggiata sull'E45, causa lavori tra Val Savignone e l'incrocio di Canili in direzione Ravenna. Chiudiamo con i lavori a Firenze, via di Careggi, da martedì 2 gennaio il tratto da Piazza Meier a via Cosimo e il Vecchio sarà chiuso, termine dei lavori previsto per il 5 gennaio. E' tutto, Moversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.